Guccini diceva che «il peccato fu creder speciale e una storia normale». Ma l'amore è per forza idealizzazione, trasformazione dell'idea di una persona in un'idea di assoluto, eterno, immutabile. Poco importa se, agli occhi degli altri, il nostro sentimento si è indifferente. Tutte le storie sono «normali», per chi non ne è coinvolto, quello che fanno gli artisti è descrivere i propri sentimenti non in virtù della persona amata, ma come elevazione di se stessi, è meravigliarsi di essere capaci di provare qualcosa che si era letto nei libri, è riconoscere quello specifico paio di occhi che, in questo inferno, non è inferno, dalla prefazione di Marco Nardone.